Rita, ma almeno tu mi credi? Non lo so. È che però un cadavere l'ho visto anche io. Lo vedi? Allora bisogna ritornare in quella casa per vedere che cosa è successo. Ma il commissario ha detto che non ci si può... Il commissario ci ringrazierà. Tu sei sicuro? Al 70%. È una cosa buona? Al 70%. Allora andiamo? Sì. Allora andiamo giusto.